Allo stadio celebra la messa alla presenza di oltre 30.000 fedei. Una breve visita in ospedale, poi il pontefice incontra i religiosi di tutta la Calabria al seminario San Pio X. Il mio saluto a tutti voi insieme qui convenuti. E a ciascuno in particolare ringraziandovi di cuore per la vostra calda appoglienza. Carissimi fratelli e sorelle, la vostra Calabria è stata già nel corso dei secoli una terra di sintesi. Siete perciò allenati a sopportare, a reagire e a risorgere. Non cedete dunque alla tentazione del pessimismo e del ripiegamento su voi stessi. Grazie. 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 Grazie.